Scuola e vaccini della CISL Puglia ha un appello ad accelerare sulla campagna di somministrazione che vede il personale scolastico tra le fasce di priorità. Perché ad oggi non ci sono notizie fermi all'ultima delibera della giunta regionale nella quale si parla di 355 operatori sanitari dedicati, ma di questi al momento nessuna traccia. Non abbiamo, come dicevo prima, né contezza del giorno in cui le scuole potranno disporre di queste 355 unità e non abbiamo quindi neanche contezza di quando partirà il piano vaccinale. CISL chiede inoltre che la campagna vaccinale sia accompagnata da una capillare campagna di informazione con l'obiettivo di fugare ogni dubbio, uno su tutti, come si intende procedere per garantire una copertura totale. La popolazione scolastica dovrebbe infatti ricevere i vaccini AstraZeneca che possono però essere somministrati fino ai 55 anni. Un problema non di poco conto, essendo tantissimi docenti oltre quel limite di età. La lettera del personale della scuola è elevatissima. Poi sembrerebbe che ci siano anche certe categorie di insegnanti. Ora non sembrerebbe che per esempio gli insegnanti di religione siano esclusi da questo piano di vaccinazione. Però non ci sono insegnanti di serie A e insegnanti di serie B insomma. Vogliamo proprio fissare l'attenzione su queste criticità all'interno del nostro territorio regionale. In conferenza stampa che stiamo pensando di organizzare per venerdì rappresenteremo quella che è la nostra piattaforma. Grazie. 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 Grazie.